terminata la prima guerra pubblica roma come si vede da questa mappa combatte continua a combattere nel 241 conquista dopo la sicilia strappata diciamo con la prima guerra pubblica anche la sardegna la corsica creando le prime province cioè territori di sfruttamento assoluto i cui abitanti non avevano diritti ma solamente il dovere di versare le tasse all'erarium di roma prima di passare a quello che era solamente un questione di tempo cioè lo scontro definitivo con cartagine che da una parte roma voleva sostituirsi a cartagine nel dominio del mediterraneo e cartagine riprendersi le tre grosse isole che le erano state sottratte roma mette definitivamente a tacere il problema dei calli e conquista la fertile pianura padana per non solo per un controllo di un territorio che era nord delle truri e quindi era potenzialmente pericoloso ma per ripristinare le risorse distrutte dal terribile conflitto precedente ricordiamo che titolivio presenta la prima guerra punica come una guerra quasi catastrofica una stima approssimativa ma veridiera indica in 15 20 per cento gli abitanti della popolazione romana morti in questo conflitto e ovviamente la maggior parte sono civili tra una guerra punica e l'altra possiamo dire viene consolidato il territorio che era stato occupato dai calli che il 18 luglio del 380 nel dies allianzis avevano saccheggiato roma e il corsole marco claudio marcello a casteggio clastidium gli venne dedicata anche una pretexta cioè una pièce teatrale eccolo casteggio sopra piacenza sconfigge i calli consolidando il potere romano sulla cosiddetta callia cisalpina cioè sulla pianura padana e cosa importante vengono fondate le colonie di cremona e piacenza fondare una colonia significa questo i cittadini romani alcuni cittadini romani conservando tutti i diritti della loro condizione fondavano una nuova civitas in zone dove c'era bisogno di un contenimento militare un po' come fece augusto quando per contenere i rezi una popolazione che voleva sfondare l'impero fondò augusta pretoria più nota oggi con il nome di aosta il risultato di questo conflitto fu il consolidamento del confine col territorio dei calli ma soprattutto il ripristino delle risorse distrutte dal conflitto precedente e ora veniamo a quella guerra che acquista dei connotati da narrazione epica titolivio ne parla in questi termini e non a torto questi sono i due protagonisti annibale questo è un busto ritrovato a capua il nemico più odiato dai romani ma quello anche più ammirato di lui sia titolivio che plutarco come era uso nell'antichità mettono in luce gli immensi vizi ma anche le immense virtù crudeltà disumana ma anche generosità priva di limiti e poi pubblio cornelio scipione di quella famiglia che porterà la cultura greca a roma che verrà soprannominato l'africano dopo la vittoria sui cartaginesi anna raggara o zama vittoria che porterà roma a sostituire cartagine nel dominio di tutto il mediterraneo in questo schema sono indicate le cause immediate della seconda guerra punica in realtà come tutte le guerre la causa è solo una le risorse risorse e il predominio commerciale roma dopo la prima guerra punica era diventata una talassocrazia aveva imparato come si combatte con le navi da guerra e adesso aspirava a dominare tutto il mediterraneo vediamo qual è la causa immediata a milcare barca fratello di annibale del ben più famoso annibale che viene da una famiglia di tra le più ricche di cartagine esprimendo il desiderio dei cartaginesi tutti vuole riconquistare sicilia calabria e sardegna e per finanziare questa guerra la futura guerra occupa la parte della spagna che arriva fino al fiume ebro che era il confine con lo stato romano con la romana civitas e comincia appunto ad accumulare risorse nel 226 il fiume ebro viene definito ufficialmente come confine tra zona cartaginese e zona romana e già ma oltre il fiume ebro troviamo la città di sagunto che è alleata dei romani ma in territorio cartaginese ecco questo è il fiume ebro la città di sagunto alleata e partner commerciale dei romani è in territorio cartaginese quindi bastava occupare sagunto minacciarla sagunto avrebbe chiesto aiuto ai romani non avrebbero potuto rifiutarlo la città viene assediata e dice di dolivio mentre manda la richiesta d'aiuto ai romani e dice di dolivio una libria urbe condita mentre il senato romano decide se attaccare o meno sagunto la città viene espugnata e distrutta a quel punto è una guerra dichiarata comincia un conflitto che più che alla storia viene consegnato quasi al mito per l'ampiezza del teatro di guerra e anche per la grandezza dei personaggi che lo hanno portato avanti due furono i grandi generali che gestirono questa guerra a cartaginesi che gestirono questa guerra contro i romani annibale che rimase 18 anni in italia e che addirittura arrivò alle porte di roma e il fratello a milcare che lo spalleggiava in spagna che era stata conquistata perché ricca di risorse che i cartaginesi avevano incamerato nel 219 sagunto viene conquistata e distrutta e in realtà i romani si sentivano sicuri perché erano difesi dalla barriera naturale delle alpi che sembrava invalicabile annibale compie un'impresa che gli storici antichi paragonarono a una delle dodici fatiche di ercole con un esercito di alcune migliaia di uomini e dico decine di elefanti erano le panzer divisione dell'epoca balicò le alpi presumibilmente balicando il piccolo san bernardo ma un terzo dei soldati e degli elefanti morì assiderato o trovando la morte nei crepacci o scivolando lungo dei canaloni ghiacciati nessuno riteneva possibile l'impresa annibale lo fece e si trovò davanti la pianura padana tre battaglie una di seguito all'altra sconfisse i romani prima al ticino poi fiume trebbia e poi al trasimeno il trasimeno alle porte di roma a quel punto nel giro di pochissimo tempo come si vede anche da questa mappa queste tre sconfitte furono una a distanza ravvicinata dell'altra e nelle situa come era stabilito dal diritto romano nelle situazioni di estremo assoluto e completo pericolo per la repubblica vengono sollevati tutti i poteri del senato e del console e viene nominato un dictator colui che ha in pugno lo stato romano a diritto di vita e di morte su tutti con decisioni inappellabili nell'anno 217 per un periodo massimo di sei mesi viene nominato quinto fabio massimo detto il conctator il temporeggiatore che decide a fronte di queste tre sconfitte la cui dimensione ormai era diventata veramente enorme di sfiancare l'esercito cartaginese con la guerriglia utilizzando piccoli commandos di uomini addestrati che facevano incursioni fulmine e silenziose e innervosiano il nemico per esempio impedendo che arrivassero i rifornimenti uccidendo le sentinelle sparendo si può dire nel nulla intanto le esercito romano si stava riorganizzando a questo punto annibale prende una decisione sulla quale gli storici per secoli si sono si sono chiesti non attaccò roma che era in difesa deviò verso capua perché rinunciò a distruggere quella città che aveva in pugno come mai noi oggi possiamo tentare di ricostruire il perché di questa mossa sconcertante di annibale arrivato al trasimeno poteva invadere tranquillamente roma che non aveva più un esercito ma aspettò che roma si ricostituisse le truppe mentre quinto fabbio massimo locurava le sue con una guerra di nervi perché in realtà la decisione fu di carattere politico lo scopo di annibale non era semplicemente quello di distruggere roma militarmente perché per esempio un eventuale governo senato in esilio un senato in esilio avrebbe ricostituito l'esercito con gli alleati rimasti fedeli il suo piano era quello di staccare da roma tutti gli alleati isolarla politicamente e costringerla alla capitolazione quindi un piano ben più raffinato di una semplice per quanto sfolgorante vittoria militare e nella sua marcia nel sud italia molte città passarono dalla parte dei cartaginesi confidando in una vittoria ormai certa di annibale lo scontro forse più terribile di questi lunghi anni di guerra avvenne a canne vicino e vicino foggia è talmente importante come luogo di memoria che tuttora si rimane sorpresi vedendo che l'uscita del casello autostradele si chiama ancora canne della battaglia fu un disastro morirono 70.000 legionari romani fu una massacro gigantesco e roma rimase in difesa e senza esercito ma come dice titolivio i romani diventano molto molto più pericolosi quando sono prostrati ecco torniamo alla mappa l'esercito di roma viene annientato e a quel punto roma arruola tutti perfino gli schiavi roma si ricostituisce un esercito e tenta una mossa che tra il disperato e il geniale porta il conflitto in spagna e in africa tenta il tutto per tutto tenta l'attacco al cuore del nemico confidando nel fatto che era una mossa inaspettata e che annibale arrivato in italia era provato dalle battaglie sia pure vincitrice e dalle guerre e dalla guerra dal stato di guerra continua che aveva tenuto contro i romani torniamo alla carta contemporaneamente da roma parte una spedizione che riconquista capua che era passata dalla parte di annibale la vendetta dei romani sulla classe dirigente fu terrificante roma era sapeva di essere sotto questo aspetto sapessero di una crudeltà veramente fuori dal comune da una parte viene portato l'attacco in spagna tarragona sacunto cartagena per i cartaginesi il contrattacco improvviso dei romani in spagna ha effetti devastanti perché con compiscono le risorse di cui i cartaginesi hanno bisogno e delle quali sono alimentate e a sdrubale il fratello di annibale ancora più inaspettato e devastante sarà l'attacco a cartagine e a zama partito dalla sicilia dopo che i romani riconquistano dopo il riconquistato capua attaccarono siracusa con una mossa veramente che ha del fulminio pubbio cornelio scipione questo signore qui detto l'africano attacca il cuore del nemico e a quel punto annibale rientra precipitosamente dall'italia sperando di ricevere aiuto dal fratello che però è sarebbe costretto a fare una strada troppo lunga e a naraggara all'epoca zama l'esercito romano vince annibale nel 202 avanti cristo anche qui c'è una piccola leggenda che vuole che i romani per rispetto del loro più terribile ma al più ammirato nemico lo lasciassero fuggire siccome dire si dimenticassero di catturarlo lui trovò rifugio presso i reprusia in bitigna in asia minore dove la turchia europea e poi si uccise per non cadere vivo nelle mani dei romani anche per guerre di questo tipo e per eventi di questo tipo ovviamente la realtà si mescola alla leggenda roma dopo la battaglia di zama diventa padrona assoluta di tutto il mediterraneo da gibilterra fino al mellegeo al mediterraneo orientale e comincia una nuova serie di guerre in oriente che erano le zone la zona più ricca del mediterraneo e roma aveva bisogno di risorse perché era stata coinvolta in un conflitto in cui aveva perso l'esercito almeno due volte quindi combatte contro la macedonia di filippo quinto la siria da sempre zona tormentata e la grecia che diventerà una provincia romana con il nome di acaia dal 200 al 146 la conquista dell'oriente della grecia ebbe una conseguenza importantissima grazie agli scipioni quelli proprio quelli di dell'africano roma si ellenizza e realizzerà una originale fusione tra il mos maiorum il costume degli antenati romano tradizionale collettivo con la paideia l'educazione grega individuale e individualista fondendole è un po mettere d'accordo il diavolo e l'acqua santa no sotto il concetto di humanitas in pratica per farla breve l'uomo colto romano chiaramente qui si parla di classi privilegiate che potevano permettersi di studiare potenzia con la paideia l'educazione greca e gli scipioni fecero educare i propri figli in questo modo le proprie capacità individuali per metterle al servizio della respubblica contemporaneamente vi fu la terza guerra punica che fu una delle pagine più ingloriose della storia di roma viene riportato da plutarco e da titolivio la frase celeberre ma con cui catone di fronte a un senato perplesso alla richiesta di fronte alla richiesta di annientare una città che ormai era ridotta all'ombra di se stessa e pertanto innocua e pronunciò la famosa frase cartago delenda est delenda vuol dire da distruggere cartagine deve essere distrutta i romani fecero provocare la città da reddinumidia alla fine esasperati i cartaginesi reagirono perché nelle clausole di pace della seconda guerra punica chiaramente oltre che alla consegna della flotta da guerra al pagamento di un'indennità molto gravosa e alla perdita di tutti i territori a cartagine era proibito di fare intraprendere ogni e qualsiasi azione militare senza il permesso dei romani venne messa in pratica quella battuta che circolò alla fine della prima guerra punica i cartaginesi non potranno nemmeno lavarsi le mani nel mar mediterraneo senza il permesso di roma cartagine viene provocata alla guerra e c'era roma dietro dalla numidia alla fine cartaginesi esasperati prendono le armi romani assediano la città i cartaginesi si offrono di consegnare le armi alcuni si offrono addirittura come schiavi ma roma ormai ha deciso e particolare tragico i difensori della città danno alle fiamme il tempio di esculapio e si gettano tra le fiamme del tempio cartagine viene distrutta la popolazione uccisa o venduta come schiava rasa al suolo e sulle rovine si sparse il sale fu una delle pagine meno gloriose dell'imperialismo romano pochi anni dopo viene pacificata la spagna dove c'erano gli ultimi focolai di resistenza cartaginesi e termina appoggiati dai celtiberi i celti di spagna termina nel 133 con scipione l'emiliano che distrugge numanzia i romani però non riuscirono a pacificare una zona che nessuno è riuscito a pacificare mai i paesi baschi esclusa questa è la giudea roma domina tutto il mediterraneo questo dominio totale viene definito pax romana che però ha dietro di sé una guerra che dura due secoli e che ha assunto anche i tratti dello sterminio la conquista del mediterraneo porterà dei mutamenti profondi nell'economia nella società e nella mentalità romane grazie 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 grazie